Allora Amanda avete fatto tutto voi, avete costruito due set perfetti perché avete giocato veramente molto bene, soprattutto tu stai facendo delle bellissime partite già con Busto e anche questa sera e poi cos'è successo? Allora un peccato che abbiamo perso questa partita perché in realtà a volte volevamo vincerla perché abbiamo studiato bene a Modena e abbiamo fatto un grandissimo set il primo e il secondo, peccato che non siamo riusciti a continuare, a avere una continuità nel terzo, nel quarto e nel quinto set, però sono contenta perché in realtà in questo momento la Sabs sta vedendo che sta giocando, in generale la squadra mi piace molto adesso in questo momento perché sta giocando in realtà e mi sento bene con tutte quindi credo che possiamo farcela, continuare a giocare bene con tutte le altre squadre Anche perché state facendo punti ogni partita, insomma ogni punto è importante adesso? Sì infatti quello, noi andiamo a Scandici la prossima trasferta a giocare perché in realtà quello che gioca bene in campo vince sempre secondo me e niente bisogna continuare a allenarsi e fare bene Però voi a Scandici non avete nulla da perdere, voglio dire, forse è più per loro che è obbligatorio Sì sì infatti, adesso pensiamo solo a Scandici e bisogna dimenticare questa partita e fare bene allenamento in questa settimana per fare un grande gioco là Ecco vi state allenando a quanto pare bene, con la partita di Busto avete studiato bene l'avversario anche questa sera si vedeva che avete preso i meccanismi giusti ci è mancato veramente pochissimo per arrivare al risultato capovolgimenti di fronte una volta loro, una volta voi cioè è veramente, bastava veramente poco, comunque state giocando veramente molto bene come squadra Sì sì, forse abbiamo avuto un po' di, come si dice, di un po' di alti bassi e penso che sia questo che, è peccato che non siamo riusciti ad andare avanti e continuare a vincere il set Allora Amanda io ti ringrazio anche perché sei sempre disponibile a venire qua a rispondere alle domande questo ti ringrazio molto, ti lascio andare comunque con le tue compagne perché è giusto adesso anche riposarsi e ci vediamo alla prossima partita Va bene, grazie mille Grazie